Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar di oggi sui servizi MSSP di Fortinet. Io sono Paolo Ruffino, Vendor Manager per Fortinet in Exclusive Network. Qui con me oggi c'è Mauro Rizzi e nel corso di questa... ciao Mauro, buongiorno e benvenuto anche a te... nel corso insomma di questa chiacchierata è l'esposizione delle soluzioni di Fortinet MSSP, avremo modo di apprendere da Mauro quali sono le opportunità da una parte che ci offre il mercato in questa direzione e come possiamo sfruttare tutte le potenzialità e quanto Fortinet ha messo in pista per poter sfruttare questo tipo di servizio, questa modalità di erogazione verso il mercato delle soluzioni Fortinet. Il protagonista Mauro oggi sei tu quindi io lascio la parola a te e ricordo a tutti i partecipanti che chiaramente sia io e che Mauro siamo a disposizione poi successivamente per qualsiasi tipo di approfondimento. Se già nel corso del webinar ci saranno delle domande vi prego di scriverle quindi tutte quelle alle quali riusciremo a rispondere durante il webinar lo faremo più che volentieri, diversamente li contatteremo poi successivamente. Mauro, che dire, lascio a te la parola e buona giornata a tutti e buon webinar. Fantastico, grazie mille Paolo. Buongiorno a tutti, io sono Mauro Rizzi, faccio parte dell'equip europea che si occupa dello sviluppo delle soluzioni managed security service provider in Europa, in particolare mi occupo Francia, Italia, Portogallo e Spagna e quest'oggi sono qua per raccontarvi quali sono i vantaggi e le offerte di Fortinet per sviluppare il mercato dei servizi gestiti. Andiamo partendo dal nostro ambiente di lavoro nel quale si trovano attualmente i nostri clienti. Ci sono quattro principali fattori. Il work from anywhere, lavorare in qualunque luogo, non è che prima non si potesse, si è sempre potuto lavorare da quasi ovunque, basta aver la banda. In realtà gli anni scorsi hanno fatto in modo che questo fosse una cosa più naturale, che sia possibile lavorare da qualunque punto, che sia legislato, che sia regolato, che sia possibile. Quindi oggi i nostri clienti e aziende lo devono supportare in maniera come si deve e questo crea delle molte molte difficoltà in termini di cyber security. Devo proteggere non solo gli asset aziendali, ma un asset aziendale che mi viene portato su una connettività casalinga e devo fare in modo che questo computer sia protetto da qualunque tipologia di minaccia informatica che oggi, lo sappiamo benissimo, sono molto molto diffuse. L'altro problema che i nostri clienti si trovano ad affrontare è la mancanza di skills. Oggi trovare qualcuno che sia in grado di capire e affrontare tutta la difficoltà della cyber security non è banale. Sul mercato effettivamente è complesso trovare qualcuno che sia in grado di gestire e capire la cyber security fino in fondo. Ed è per questo che i nostri clienti stanno cercando un partner affidabile ai quali delegare la gestione della cyber security. Alla fine un partner, un cliente che si affida a noi, a voi come partner, per la gestione della cyber security sta dando in mano a noi le chiavi della propria azienda, del proprio business, perché sappiamo quanto sia importante oggi proteggere i dati per riuscire a fare correttamente business. Quindi voglio in questa slide raccontarvi un po' l'opportunità di mercato. E non voglio tediarvi con i numeri perché sappiamo che i numeri sono veramente enormi, sono sempre in crescita. Quello che voglio raccontarvi è questo numero in particolare. Ogni volta che io vedo una slide sull'opportunità di mercato, questo numero è sempre in crescita, è una roba incredibile, sempre sempre in crescita. Quindi il mercato della cyber security è un mercato che sta crescendo, continuerà a crescere, visto anche le sfide che ci ritroviamo ad affrontare a livello internazionale. Quindi mercato che continua a crescere, ma non solo. Quello che è importante per noi è che il 77 per cento della spesa dei nostri clienti verrà dirottato verso i servizi e Gartner prevede che la crescita annuale media sia dell'8 per cento, dal 2021 al 2027 e questo è veramente enorme. per raggiungere un 50 miliardi, quindi un mercato indirizzabile di 50 miliardi nel 2027, una crescita da 29,7 miliardi nel 2020. Quindi vedete che la crescita è enorme. Stiamo partendo da 101 miliardi di mercato indirizzabile, cyber security, 50 miliardi, quindi la metà di questo mercato è indirizzabile attraverso dei servizi, quindi servizi gestiti. Ecco perché è importante che Fortinet sia in grado di supportarvi con delle offerte che vi consentono di creare dei servizi per proteggere le infrastrutture dei vostri clienti e venderle come servizi appunto. Vi supportiamo con tutti i prodotti. I prodotti ci servono per creare, per supportare degli use case, in particolare alcuni liori assunti in questa slide, vogliamo creare un next generation firewall as a service? È possibile farlo grazie al FortiGate, SMB bundle, FortiGate cloud, Forti converter. Vogliamo creare una gestione SD1? Possiamo farlo attraverso FortiGate cloud, Forti switch, Forti AP, Forti extender. Abbiamo tutti i prodotti che vi consentono di supportare qualunque use case il nostro cliente abbia bisogno di supportare. Tipicamente quello che vediamo in Europa è che i service provider, anche quelli piccolini, sono partiti da managed next generation firewall, quindi gestire il firewall per i clienti che non hanno l'infrastruttura o che non hanno la capacità operazionale per gestire un firewall in autonomia, quindi gestirglielo in modalità servizi, evolvere verso un managed email protection, per esempio con FortiMail o Forti sandbox, quindi il cliente ormai si fida perché al firewall gli proteggiamo anche l'email. Se il cliente ha più sedi a quel punto io posso offrire anche un servizio di SD1 per consentirgli di andare a proteggere propriamente tutte le sedi in cui questo cliente lavora. Naturalmente come evoluzione dall'SD1 si può passare anche all'SD branch, quindi la parte di LAN e wifi sempre protetti dentro la security fabric. Non ci fermiamo qua perché nell'istante in cui abbiamo protetto le sedi, le mail e tutta la parte di LAN e wifi possiamo andare anche verso l'end point protection, quindi proteggere la parte di smartphone, stampanti, pc, tutto quello che è collegato a internet e che, se lo sapete meglio di me, è hackerabile e proteggere anche l'identità dei nostri clienti. Nulla ci vieta chiaramente di partire da uno qualunque di questi use case. Ho un cliente che ha bisogno di un endpoint protection. Andiamo a vedere che il Forti VR è da service, ci permette di partire e proteggere gli asset del nostro cliente in modalità servizio. Tutte queste soluzioni, tutti questi use case vi dicevo ruotano attorno alla security fabric e uno dei nostri principali vantaggi è l'integrabilità e l'integrazione di tutte le nostre soluzioni che parlano fra di loro. Quindi ho un Forti VR che ha scoperto un potenziale attacco, lo blocca sull'end point ma non solo, può anche avvertire il firewall che quella tipologia di applicativo è da bloccare perché è stato riscontrato che è un trojan che è una potenziale minaccia. Quindi grazie ai Forti Guard Threat Intelligence, quindi ai Forti Guard Labs, noi riusciamo ad analizzare tutte le minacce che i nostri clienti subiscono e poi condividerle con tutti gli altri. Quindi avere a disposizione un database enorme, sconfinato, che ci consente di andare immediatamente a proteggere i nostri clienti anche contro attacchi zero days. Quindi vi mettiamo a disposizione tutti gli strumenti e tutti i prodotti per creare dei servizi e rivenderli verso i vostri clienti, dal secure networking al cloud security, all'end point e access security, al NOC e SOC. Quindi vediamo perché è vantaggioso scegliere Fortinet come il vostro vendor per creare dei servizi gestiti. Abbiamo la possibilità di ottenere e consumare i prodotti come più ci accomodo, in maniera fisica, in macchine virtuali, in cloud, as a service. In più supportiamo delle offerte as you grow, nel senso pagate una piccola fee per entrare e poi man mano si paga mensilmente il servizio che si rivende al nostro cliente. Siamo un leader riconosciuto, pochi giorni fa è uscito un nuovo Magic Quadrant di Gartner per SD1 e siamo per la terza volta leader, tra l'altro quelli più in alto in termini di capacità di esecuzione. Integrazione con le terze parti, fondamentale nell'istante in cui io voglio creare un SOC e quindi vendere dei servizi di SOC gestiti ai miei clienti, è fondamentale essere in grado di integrarsi non solo con tutti i prodotti forti, ma anche con le terze parti per fare in modo che voi riusciate a gestire e a collezionare tutti i log della rete del vostro cliente in maniera molto semplice attraverso REST o API. Multi tenant by design, quindi tutte le nostre soluzioni, quelle che vi ho presentato poco fa, sono capaci di gestire più clienti dietro una singola console. Questo vi dà la possibilità di avere un'unica console e incrementare lo spending medio per ogni singolo cliente. Quindi abbiamo visto perché Fortinet sia la soluzione migliore in termini di prodotti e ora vi faccio vedere quali sono le possibilità che avete in termini di programma di partnership per diventare un managed service provider. Per supportarvi al meglio il programma di partnership di Fortinet ha tre dimensioni, quindi il primo livello è quello dell'engagement, vi consente di scegliere quanto vi ingaggiate con noi in termini di certifiche e di business plan. Quindi advocate, è il livello entry level, quindi l'ingresso, select, è quello un po' più elevato in termini di richieste di ingaggio su un business plan annuale, advanced and expert sono i più avanzati. Il secondo è il business model, quindi il secondo livello è il business model, come volete vendere le vostre soluzioni, quindi integrator è la base, MSSP è la parte che vi consente di vendere e acquisire le soluzioni as a service e cloud, chiaramente vi dà accesso alle soluzioni cloud. Tutti e tre i business model li potete avere anche contemporaneamente, non c'è alcun problema. Infine il terzo livello è quello della specializzazione, quindi da select in poi voi avete accesso a tutte le specializzazioni che vi consentono di avere un badge dedicato, di essere degli specialisti, certo, ma di avere anche un badge dedicato da mostrare sul vostro sito e nel nostro partner locator, perché un cliente se vi cerca per quella specifica specializzazione sa che voi siete certificati per una determinata soluzione, quindi operational technology, adaptive cloud security, ultimamente stiamo spengendo molto questa sulla security operation, ok? Perché abbiamo bisogno di partner che siano in grado di vendere servizi? Abbiamo visto il mercato sta andando in quella direzione, i clienti ce lo chiedono, quindi abbiamo bisogno che voi siate in grado di supportare i nostri clienti comuni in una modalità as a service, perché Fortinet vende solo ed esclusivamente attraverso canale, 100%. Vi faccio vedere quali sono i requisiti per acquisire il business model MSSP. Vi faccio vedere prima i requisiti e poi i vantaggi, quindi dietro i requisiti ci sono dei vantaggi che aumentano all'aumentare della vostra capacità di ingaggio. Quindi a livello advocate non abbiamo requisiti, si può accedere al modello MSSP senza requisiti particolari. I requisiti iniziano dal livello select. A livello select abbiamo oltre alle certifiche normali che sono fino all'NS4, c'è un NSA in più che l'NS5. Questo ci serve per fare in modo che chi rivende i nostri servizi sia competente sia in grado di rivenderli correttamente ai nostri comuni clienti. Chiaramente poi salendo chiediamo dei requisiti di certifiche in più. Per chi è select e vuol diventare MSSP chiediamo una piattaforma di remote monitoring che sia in grado di controllare remotamente il cliente perché se voglio offrire dei servizi gestiti è chiaro che ho bisogno di controllare la rete del mio cliente e quindi sapere cosa sta succedendo al mio cliente. Attualmente abbiamo degli sconti sui voucher dagli esami e possiamo chiaramente parlare con Exclusive per questa tipologia di offerte. Andiamo a vedere quali sono i vantaggi di diventare managed security service provider con Fortinet. Abbiamo detto a livello advocate non ho requisiti ma ho accesso al portfolio MSSP. A livello select invece iniziano ad arrivare tutti i vantaggi. I vantaggi principali sono che ho 5 punti percentuali in più di sconto rispetto a un advocate. Ho un anno di Forti Cloud Premium gratuito e posso avere accesso ai programmi che andrò a mostrarvi nelle slide successive. Quindi Flexian, fortissime, forti di di ART. Salendo con l'ingaggio abbiamo ancora più vantaggi. Quindi develop e deploy toolkit del Fortinet developer network, Forti converter, Forti portal license a livello expert e chiaramente salendo nella parte di ingaggio ho anche più indiritto o più sconto. Come vi dicevo nel Select MSSP c'è incluso una licenza gratuita Forti Cloud Premium. Quindi la vedete in questo slide tutti l'accesso a tutto quello che vi dà questa licenza. e abbiamo diminuito il requisito per diventare MSSP a livello Select. Quindi ad oggi è sufficiente una piattaforma di remote monitoring. Il FortiGate Cloud è l'ideale e gli altri vanno bene ugualmente. Altri vantaggi per voi di diventare Select sono avete un CAM dedicato, avete accesso alle specializzazioni, quindi potete essere certificati e avere il bollino sul nostro partner locator nell'istante in cui il cliente vi cerca sa che siete specializzati per una determinata tecnologia e avete accesso anche a un 3% di sconto in più sulla del registration. La presenza su partner locator è fondamentale, accesso al diretto al supporto, grazie all'NSE4 voi avete accesso diretto al supporto Fortinet. Questo è fondamentale perché se forniti un servizio a più clienti, è chiaro che quando chiamate, non state chiamando perché il servizio è fermo per un solo cliente, perché non siete solo voi. Sappiamo benissimo che in quel caso se state chiamando avete bisogno è perché magari ci sono più clienti che stanno in difficoltà, quindi dobbiamo intervenire in maniera più reattiva e questo vi consente di accedere al supporto in maniera molto più veloce. Accesso al marketing found e a tutte le offerte Forti Reward e Hero Elegibility, quindi programmi di marketing che vi consentono di accumulare fondi e utilizzarli per sviluppo marketing. Questi sono tutti i vantaggi di diventare Select e acquisire il business model MSP. A questo punto andiamo a vedere quali sono le offerte alle quali voi avete accesso grazie alla modalità MSP. FlexVM. Partiamo da FlexVM che è una modalità di pagamento delle licenze VM, FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer e FortiWeb, Web con controllo del consumo giornaliero, pagamento mensile postpaid, una licenza annuale e qua vedete Advanced e Expert Partner Level. Non è stato messo Select, ovviamente contattatemi, contattateci perché se avete un business plan interessante possiamo gestire, non c'è problema. FortiSim è la possibilità di acquisire il FortiSim e pagare in modalità mensile postpaid, anche qua con un annual subscription. FortiDR, stessa cosa, la possibilità di accedere alla piattaforma FortiDR nel cloud, pagare mensilmente solo ed esclusivamente le licenze che state utilizzando. Andiamo a vederli un po' più nel dettaglio. Parto dal FlexVM. FlexVM che cos'è? È una modalità di consumo delle macchine virtuali che vi consente di accendere e spegnere delle macchine virtuali, utilizzarle e avere il consumo della macchina virtuale giornalmente. Quindi io posso accendere una VM01 oggi, utilizzarla, pagarla e spegnerla domani. Quindi avete un controllo e una scalabilità elevatissima sull'utilizzo delle macchine virtuali e dei servizi che voi andate a associare con queste macchine virtuali. Il programma come funziona? Si ha una piccola fila di ingresso che è veramente bassa, mi sembra 1-2 dollari, veramente molto bassa. Vi dà accesso a un programma con capacità illimitata di macchine virtuali e servizi. Cioè una volta che voi avete deciso, sì mi ingaggio su 1-2-4-3-4-5 anni, a quel punto avete accesso al FlexVM che è un portale che vi consente di creare la token che va poi installata sulla macchina virtuale. Quella token potrà gestire la macchina virtuale in termini di CPU e servizi associati a quella macchina virtuale. Quindi tutta la configurazione di quella macchina virtuale in termini di capacità di calcolo e servizi associati a quella macchina virtuale viene gestita dal portale FlexVM che quindi vi consente di accendere e spegnere, aumentare e diminuire la capacità della macchina virtuale in una modalità che è molto molto flessibile. Cos'è incluso nel programma FlexVM? Ci sono i FortiGate, i FortiWeb, i FortiCare Support, le Advanced Application Security Services, i FortiGuard. Quindi tutti questi prodotti e servizi sono inclusi in FlexVM. FortiManager, FortiGateCloud, FortiManagerCloud, FortiAnalyzerCloud, tutti questi servizi sono inclusi all'interno del FlexVM. FlexVM vi viene messo a disposizione tramite un portale che potete utilizzare certo come portale, ma i nostri clienti tipicamente usano le API per creare questi token e distribuirli sulle macchine virtuali in maniera automatica. Vi dicevo, i punti vengono calcolati giornalmente. Quindi, in questo esempio, andiamo a considerare una CPU con quattro processori e l'UTP. In questo caso, una VM04 con l'UTP Bundle consuma 9,16 punti per giorno. Quindi, se dovessimo pianificare la nostra capacità, andando a utilizzare 15 macchine virtuali VM04 con l'UTP Bundle per 365 giorni, otteniamo i famosi 50.000 punti, che è l'ingaggio annuale che noi chiediamo a un partner che vuole far parte del programma FlexVM. FortiWeb, stessa cosa, a seconda delle CPU utilizzate e dei servizi che io vado ad abilitare su quella macchina virtuale, ho un consumo giornaliero di punti che vanno a sommarsi per permettermi di raggiungere quella famosa soglia dei 50.000 punti. In questo caso, tre VM04 e una VM02 con standard Web Security Bundle, 365 giorni, arriviamo a 50.700 punti. Quindi, vi riassumo il tutto in questa tabella. Livello di CPU e servizi che vengono utilizzati aumenta il consumo di punti giornaliero. Questo è il FortiGate e questo è il FortiWeb. Sul Fortinet Developer Network c'è un simulatore che vi consente di andare a selezionare la tipologia di macchina virtuale, il numero di CPU, i servizi, e in quel simulatore potete vedere i punti che vengono consumati giornalmente da quella macchina virtuale. Questo vi aiuta per capire il consumo giornaliero. Vi possiamo mettere a disposizione un file Excel, che è questo che vedete nello screenshot, che vi consente di pianificare la vostra evoluzione. Perché? Sappiamo che i 50.000 punti potrebbe essere uno scoglio per qualcuno. In realtà abbiamo casi di successo nel quale recentemente, per esempio, ho visto un partner turco che era spaventato dalla soglia dei 50.000 punti e alla fine, in meno di un anno, è già arrivato a 134.000 punti di consumo. Quindi questo ci consente di andare a pianificare, se ad oggi voi avete già delle macchine virtuali, avete già dei clienti in previsione di attivare e sapete i servizi che vanno associati, questo file vi consente in maniera molto grafica di andare a inserire il numero di macchine virtuali con i servizi e capire quanti punti potenzialmente potete consumare o andrete a consumare in un anno. Perché? Il programma funziona che acquisite la capacità di avere accesso a FlexVM. Attraverso FortiCare, è un menu di FortiCare, quindi voi FlexVM program, avete accesso alla dashboard che vi dà la visibilità sui termini del vostro ingaggio, le macchine virtuali, i punti che avete consumato, insomma avete tutto sotto controllo attraverso questo portale. Il funzionamento di questo programma è acquisisco uno SKU che costa 1-2 dollari, è veramente irrisorio, serve solo a noi per capire il numero di anni, il numero di mesi che vi ingaggiate con noi in questo programma. Ogni anno noi chiediamo un commitment di 50.000 punti. A quel punto, scusate il gioco di parole, il consumo viene calcolato giornalmente dalle macchine virtuali che voi avete attive. Quindi io entro a far parte del programma, non pago niente, verrò fatturato mensilmente in base al consumo di punti giornaliero delle mie macchine virtuali. Quindi io a seconda di quante macchine virtuali ho accese e che servizi utilizzano, che performance ho richiesto con le macchine virtuali, alla fine del mese riceverò un consuntivo di punti utilizzati che si traduce in costo attraverso una semplice moltiplica del punto per il costo di un punto, che ad oggi è veramente molto molto basso. Poi se siete interessati con Exclusive possiamo ovviamente fornirvi i listini dei costi dei punti. Il vantaggio enorme di questa soluzione è l'automazione, quindi è la capacità di scalare in alto, dove vogliamo tutti, ma anche verso il basso. Quindi avendo un modello di charging giornaliero, voi non vi dovete preoccupare, accendo la macchina al 20 del mese e la pago tutto il mese. No, la pagate quel giorno lì, da quel giorno lì in poi, o da quel giorno lì a quando la spegnete. Forti SIEM. Forti SIEM, il modello di licensing MSSP, è molto molto interessante e molto molto semplice. Perché? Tipicamente Forti SIEM come funziona? Dovete acquisire le appliance e a quel punto, una volta che ho acquisito le appliance, devo scegliere fra la licenza perpetua o la subscription. In entrambi i casi devo decidere in base al numero di dispositivi, in base al numero di eventi per secondo, in base agli end point, in base agli agenti. e l'indicator of compromise è sempre opzionale. Quindi la modalità di licensing classica è questa, che è piuttosto complicata. Mentre nel modello MSSP, la modalità di licensing è molto più semplice, perché è un billing mensile, quindi post paid. A ottobre pago i miei dispositivi, che erano attivi nel mese di settembre, relativi solamente a dispositivi e agenti utilizzati. Fine. Il resto è tutto incluso, quindi unlimited eventi per secondo, quindi eventi per secondo illimitati. Forti Care e Indicator of Compromise sono inclusi nell'offerta. Quindi l'offerta MSSP del Forti Siem vi consente, con una piccola fee annuale, di accedere a questo programma, che vi dà la possibilità di fornire dei servizi di SOC al vostro cliente, grazie alla Forti Siem, alla piattaforma, e pagare mensilmente solo il numero di dispositivi e di agenti che avete deployati su quel specifico cliente. Quindi questa è un'altra ottima opportunità che Forti vi mette a disposizione per fornire dei servizi di security as a service, grazie al Forti Siem e grazie alla capacità di fatturare solamente i dispositivi. Non devo più andare a preoccuparmi degli eventi per secondo, di quanti saranno. Questo è tutto incluso, ho l'indicator of compromise incluso nel pacchetto, e quindi potete facilmente fare upsell anche su dei clienti esistenti con dei FortiGate. FortiDR è l'ultimo programma che vi presento oggi. È un programma pay as you grow, e vi consente di avere accesso ad una piattaforma cloud molto molto potente. La fee del programma in questo caso è un po' più elevata rispetto a quella della FlexVM e del Forti Siem. Perché? Perché la fee del programma include mille endpoint, quindi mille endpoint, l'installazione e l'attivazione di mille endpoint sulla piattaforma, un giorno di servizi professionali e dieci incident response query. Quindi con il bundle MSSP voi andate ad acquisire direttamente la capacità di avere accesso a una piattaforma cloud, che è questa, quindi non dovete installare niente, potete direttamente creare tutte le vostre sottoorganizzazioni, quindi i vari tenant, i vostri clienti che poi andrete a gestire, e assegnare a questi clienti un numero di endpoint da andare a proteggere. Solo quando il collector è correttamente installato sull'endpoint e viene visto dalla piattaforma, a quel punto l'endpoint vi verrà fatturato. Ok? Come vi viene fatturato? Vi viene fatturato mensilmente, post paid, quindi a ottobre io vado a pagare gli endpoint attivi a settembre, meno mille. Significa che fino a mille, una volta che voi avete acquisito le MSSP bundle, non li pagate, quindi sono inclusi nel bundle MSSP. Oltre ai mille, più ne installate e meglio è, perché più ne installate e meno costa il singolo endpoint, quindi il prezzo decresce all'aumentare del numero di endpoint. So che è un po' arzigogolato, quindi vi faccio un esempio con la slide successiva. Supponete di aver acquisito il business model MSSP, avete acquisito il business model MSSP e decidete di partire su FortiDR. Acquisite il bundle MSSP, a quel punto, il mese 1, avete 800 clienti. Il mese 1, avete 800 clienti. Quanto sarà la fatturazione verso di voi? Zero, perché mille endpoint sono inclusi con il modello MSSP. Il mese 2, avete acquisito altri 700 clienti, quindi siete andati sulla piattaforma e avete aggiunto altri 700 clienti che sono stati visti dalla piattaforma, quindi non solo sono assegnati ai vari tenant, ma sono stati attivati sulla piattaforma. Una volta attivati siamo arrivati a 1500. La mia piattaforma vede 1500 endpoint, quanto sarà la mia fatturazione per il mese 2? Sarà di 500 endpoint all'interno del tier 1, quindi il tier 1 vi verrà fatturati poi i 500 endpoint. Il terzo mese, siete cresciuti ancora, avete a questo punto 4000 endpoint che sono protetti e visti dalla piattaforma. Quanto sarà la fatturazione relativa a quel mese? Sarà di 4000, meno i 1000 già inclusi. A questo punto siete a 3000. 3000 sono il tier 2, è l'inizio del tier 2, quindi il prezzo sarà sceso. Il prezzo per singolo endpoint sarà sceso. A questo punto avrete una fatturazione di 3000 endpoint a tier 2. La piattaforma è veramente molto molto potente. In questa modalità, nella modalità MSSP, vi diamo accesso ad un primo livello di 50.000 potenziali endpoint, quindi su questa piattaforma voi potete andare ad assegnare ad ogni organizzazione, ad ogni vari cliente che voi avete, fino a 50.000 endpoint. 1000 li avete già pagati con MSSP Bundle, quelli che sono visti dalla piattaforma come attivi vengono fatturati in postpaid il mese dopo. Quindi la piattaforma è veramente molto molto potente, e tra l'altro non dovete installare niente perché è tutto cloud in maniera molto semplice. Vi dà accesso a poter fornire un servizio di endpoint detection and remediation con una piattaforma veramente molto performante. Per accedere al programma bisogna acquisire il modello MSSP e comprare il bundle MSSP. Dopodiché avete accesso a questa piattaforma e il pagamento è, con una volta, postpaid mensile meno 1000. Visto che è un po' complicato il tutto, vi posso mettere anche a disposizione questo file Excel che ho creato per, tra virgolette, giocare con i costi del singolo endpoint, e vi consente di andare a pianificare la vostra crescita. Potete pianificare mensilmente quanto andate ad aggiungere il numero di endpoint attivi sulla piattaforma e quindi vi dà un'idea di quanto potrebbe costarvi il Forti VR in questa modalità o se vi conviene acquisirlo in modalità prepaid. Siamo arrivati verso la fine della presentazione. Vi ho raccontato i tre programmi MSSP postpaid di Fortinet. Il primo è il FlexVM, FortiGate, FortiAnalyzer, FortiWeb, in modalità postpaid mensile con charging model giornaliero. Quindi giornalmente noi andiamo a controllare quante macchine virtuali sono attive e pagherete solo ed esclusivamente le macchine virtuali attive. 50.000 punti l'ingaggio annuale. Non vi deve spaventare, possiamo tranquillamente lavorare insieme a un business plan annuale per capire se questa è la soluzione giusta per voi. Esiste anche la modalità prepaid, ma dovete pagare tutto all'inizio, quindi 50.000 punti li dovete acquisire all'inizio e poi li consumate man mano giornalmente. Esiste anche questa modalità, è un prepaid al post di un postpaid. Non è così flessibile perché dovete consumare tutti quei punti entro l'anno e gli ulteriori scaglioni sono a 10.000 punti, mentre questo vi consente di consumare giornalmente e pagare mensilmente i punti che effettivamente sono stati consumati. FortiSiem, altro programma che vi consente di creare un SOC as a service, SIEM lo sapete, è compatibile con molte terze parti, quindi potete creare un servizio di SOC as a service con pagamento mensile postpaid che è basato solo ed esclusivamente sugli end point e sugli agenti deployati effettivamente, include FortiCare e Indicator of Compromise. Anche qui un'ottima possibilità per voi per creare dei servizi gestiti. FortiDR, ultimo programma che vi consente di acquisire una piattaforma con potenzialità enormi, in questo caso la feed ingresso è un po' più alta perché include 1.000 end point, un giorno di servizio professionale per aiutarvi a installare o qualunque cosa voi abbiate bisogno e 10.000 end point, quindi questo è il FortiDR con accesso a piattaforma cloud, non dovete installare niente, non dovete chiamare noi quando volete aumentare la capacità di un cliente e tutto in automatica lo gestite voi dal back-end della piattaforma. Questi sono i tre programmi post-paid che Fortinet vi mette a disposizione per supportarvi nella creazione di servizi gestiti. Quindi vi diamo accesso a questi programmi per consentirvi di migrare dal CAPEX verso l'OPEX e creare dei servizi che siano i più innovativi possibili grazie alle vostre capacità e alle nostre soluzioni con l'intento finale, sia nostro che vostro, di aumentare la revenue medio per ogni singolo cliente. Io sono arrivato alla fine della presentazione, c'è spazio per domande e qualunque altro dubbio vi sia venuto durante la presentazione. Magro, grazie mille per la chiarezza con la quale hai esposto il programma. Di mio vorrei aggiungere che anche quello che è un po' come la vediamo lato distribuzione, secondo me tutto il tema MSSP rappresenta una grandissima opportunità per tutti i nostri partner, quindi l'invito mio è proprio quello di provare ad approcciare a questo metodo, a questa nuova modalità di vendita, ma poi questo è, come dire, è confortato anche dai numeri, penso che sia abbastanza evidente a tutti, c'è proprio anche una richiesta da parte del mercato di andare in questa direzione, quindi avere la possibilità di poter accedere a questo set di prodotti e andare già a coprire veramente tante esigenze sui clienti in questa modalità rappresenta a mio avviso una grande opportunità in questo senso. Quindi l'invito è veramente quello di provare e di iniziare ad approcciare questo tipo di modalità di vendita. Corretto. Tipicamente la richiesta, lo sforzo iniziale è molto molto basso, quindi effettivamente vi dà accesso a delle soluzioni molto potenti senza un esborso iniziale elevato. E l'altro aspetto che a mio avviso è estremamente importante, è anche quello di poter accedere o meglio di poter vendere delle soluzioni, mi riferisco ad esempio al Forti di Arla dove normalmente l'accesso al licensing richiede un numero, un ingaggio su un numero di licenze abbastanza importanti. Qua abbiamo la possibilità di, e chiaramente intendo in modalità tradizionali, in questo caso da MSSP oltre ad avere un set di licenze incluse abbiamo la possibilità di distribuirle in maniera decisamente eterogenea e quindi possiamo andare a veramente a toccare tantissimi clienti anche laddove abbiamo una numerosità più bassa, quindi mi rivolgo magari più a chi si riferisce a come mercato di riferimento quello SMB, quindi anche qui è una forma di vendita che consente di offrire un prodotto decisamente di fascia enterprise anche ad una platea laddove difficilmente in un'altra maniera sarebbe più possibile andarlo ad offrire. quindi ci apriamo anche delle possibilità di business completamente nuove oltre che avere una gestione modulata nel tempo. Allora, guardando direi che dunque non vedo domande quindi io ringrazio nuovamente tutti voi per la vostra partecipazione rinnovi ringraziamenti anche a te Mauro e vi ricordo come abbiamo già ampiamente detto che noi siamo a disposizione quindi qualsiasi approfondimento o comunque per chi volesse intraprendere questo tipo di strada siamo a disposizione per potervi dare tutte le informazioni del caso e poi da un punto di vista poi più pratico come partire come attivarsi quindi grazie ancora a tutti e buona giornata Grazie mille e buona giornata Grazie mille